Hey viewers, what's up, my name is my name and I'm going to be here for a new video on play Questa volta su The Walking Dead Nella scuola, che scuola non si può Ovvero una scuola E dobbiamo andare a prendere una batteria Quindi andiamo a prendere questa dannatissima batteria Andiamo ciccio La batteria Dove Ah Dove diavolo è andata? No, Mitz è di The Cut Lady Cazzo, ho ancora i ricordi di The Cut Lady Sì, sì, sto arrivando Che è questo? Bossoli Sono inutili Ok, andiamo Andiamo A prendere questa dannata batteria Prima che sia troppo tardi Quindi prima che la prendano i morti E' tipo già uscita? Già andata all'officina? Forse? Molly, sei inutili qui? No No Ok Molly Allora, mi ricordo che moglie ha qualcosa a che fare con questa scuola Ma non mi ricordo bene cosa Wait a second Oh Proviamo Perfetto Certo, poi il problema sarà torna indietro Ma, eh Ci penseremo quando sarà il momento E' un'altra scuola Ok, grazie Allora Allora, questa non posso aprirla Mentre qui Già E allora come diavolo si fa ad entrare qui? Alright, questa è tutta la scuola Molly? Molly? Molly! What? I think you got it. One more! He's wearing medical scrubs. Some kind of scientist or doctor maybe? Yeah well, he ain't shit new! No. Did you find us a way in? Yeah, but the garage door is jammed, can't raise it. Not a problem, look what I found. Oh yeah, that'll work. Molly, you've done a little cashier. Entro. Forza. Come on! Come on! Dai. Dai, 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 dai... Mamma mia! toglieri il cric? toglieri il cric? no eh? o e? Non c'è corrente Quindi devo andare a riattivare Da qualche parte Dov'è l'interruttore della corrente? Beh, posso vedere dove la batteria dovrebbe essere Ma non è Perfetto Ok, fammi controllare Bene, possiamo tipo staccarlo in modo tale che cada? Non credo che posso prendere queste scuole aparte con solo le mie mani Magari se avessi qualcosa da tagliare Ce l'ha lei Mi serve la tua mazzettina Perché ho dato via l'ascia? Ah Ok 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 Ah, come on Ok, vai Ok Ok Andiamo, andiamo Forza, forza Forza, forza Ok Tanto ormai ci hanno beccato Voila Ok Sembra vero che non si sono tagliati Non si sono fatti niente Ok, ok, ora siamo nel bambino Si non si parla di scopare? Come on Come on, come on, what are you, chicken? Jump Lo scopo! Cosa mi chiamavi? Ma ora che ho parlato... come on later, c'è qualcosa che devo fare prima cosa? ci vediamo later wait, tu ancora hai la batteria? sì, credo che prenderò sicuro che non lasciate senza me ci vediamo in classe molly! dammit, che cosa sta facendo? bello discorso oi, sei morissimo per strada che buona che sia oh cazzo mamma stai ok, ciao ok, vai male diizio e anche questa andata ok ok yay si si e abbiamo fatto bene anche buon lavoro Kenny come stai facendo con questa porta? non è molto bene qui ecco 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 ok 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 hey piccola che dici ok ok che succede che succede? ecco 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 Non so voi Io a scuola non ho mai avuto questo tipo di armadetti Mai, mai, mai Ma non credo neanche che fosse sicurissimo Tenere la roba dentro gli armadetti Dentro la scuola Non so se mai Le cose strane, sapete Merda Dammit Ok, quindi Ora E' molto Mamma mia Cod zombie Cod zombie Uia Ok Cartella medica Oh Vediamo un po', vediamo un po' Ok Ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Grazie a tutti. I want the procedure! I want my baby! I can't do this! I can't do this! Anna, you don't have a choice. Now, if you like, you can take some time with this, but I need you to come back no later than tomorrow, or I'll have no choice but to inform Obers and myself. I'm sorry. Okay. Damn it! We almost had it! What the hell kind of place was this? Like Molly said, the worst card. Lee, maybe there's another tape. We've got to keep looking. I think I recognized that doctor. He was one of the walkers out in the alley by the auto shop. Maybe you should search it. See what he's got on him. Sperando che, tipo, non ce ne siano altri intorno a lui. Cosa molto plausibile Cacolando anche che No vabbè c'è una pistola Però non è la cosa migliore Tipo iniziare a sparare all'impazzata fuori Da Si si voi continuate a sbattere Non entrerete mai E se entrerete vi bloccheremo nei corridoi Come gli spartani di Leonida In file da 4 Stretti stretti In un corridoio che ne prende 6 Quindi siamo fottuti Cazzo Ci ho pensato adesso Allora Come si può fare Come si può fare Dovrei andare dall'altra parte io Oh Fuck you Maledetto puttanone schifoso Oh E poi dicono che la televisione non fa male Ok Questa era una libide Oh Sul serio Dove stai andando Ciccio Ciccio dove stai tentando di andare Da nessuna parte Ecco dove Ora Se vuoi essere così gentile Da darmi la tua cassettina La tua chiave O quel che Era Era dell'armadietto Ecco che era Come è tornato indietro Lo sa solo lui Va bene Comunque Allora Se non erro Qui c'era questo armadietto Esatto Ok Noi li mettiamo entrambi E si vediamo tutte e due Giusto Giusto ragazzi Giusto ragazzi Dannazione Tocca a vedere se sta roba È un po' Noi li mettiamo Anna Doctor I'm begging you Please help me Maybe one day when things are different You can try again but for now Today we have to do this Oh No ok e l'altra cassetta e l'altra Ok, io credo che siamo buoni. Questo è più di enough per i tuoi persone e i miei. Allora, vabbiamo. Sì, ho trovato una terza tapita in un locker in fuori. Magari c'è qualcosa di altro. Abbiamo i medici per Omid, è tutto ciò che mi piace. Siamo tornando alla classe, non prendi molto tempo, Lee. Ok. Però prima mi guardo l'altra cassetta. Eh no, io me la voglio vedere l'altra cassetta. Che diavolo? Eh, siamo qui. Veniamoci a un filmetto. Magari è un porno. Oh! Sì. Sì. Beh, in realtà è la fine di un porno. Ok. Well, shit. Wow, shit! Merda, sul serio. Cazzarola. Aaaaaah!